Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi andremo a fatturare il nostro malicare, il frotto del capraio, ovviamente dopo aver lavato la macchina. Ok ragazzi, la macchina è pulita, destinazione frotto del capraio. Ecco ragazzi, siamo arrivati, questo è il frotto del capraio, adesso è chiuso, però possiamo via mangiare, pronti a far volare il Mavic Air, ok? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.